Prevenire prima che curare, abbattendo gli steccati campanilistici che non hanno consentito alla Calabria di crescere. Chiari e determinati gli obiettivi del nuovo prefetto di Catanzaro Luisa Latella, di ritorno in Calabria a distanza da qualche anno dalla conclusione della sua ultima esperienza alla guida dell'ufficio territoriale del governo di Vibo Valencia. Il prefetto ha esposto alla stampa nel corso del primo incontro con i giornalisti le sue priorità, sottolineando come il suo legame con questa regione e i problemi che la attanagliano non si è mai venuto meno. Io ho sempre seguito le vicende della Calabria e quindi anche quelle di Catanzaro, però una cosa è viverle da fuori, una cosa è vivere il territorio, le sue problematiche, affrontarlo direttamente, quindi è chiaro che devo imparare e tanto di Catanzaro. Luisa Latella si è detta pronta a scendere a contatto e a collaborare come ha sempre fatto con le forze sane del territorio. Ho sempre privilegiato anche il rapporto con le espressioni del territorio che possono essere le associazioni, tutto quel mondo che nasce spontaneamente. E sulle telecamere di videosorveglianza, per provare quantomeno a circoscrivere gli episodi sempre più frequenti di microcriminalità, ha chiosato. Per la mia esperienza la videosorveglianza è un buon deterrente e serve anche a livello investigativo perché se ci sono immagini su attività che vengono reati, che vengono compiuti, sono un buon aiuto per le forze di polizia.